Galà della Lirica, Castellarte, appuntamento importante il 18 luglio per avvicinare anche i giovani, come si suol dire, alla musica classica. E questo è uno degli obiettivi? Sì, noi quando facciamo iniziative abbiamo anche obiettivi didattici, quando ci riusciamo. E allora in questo caso è un Galà della Lirica, tre grandi interpreti sudcoreani, di un grande curriculum alle spalle, si chiamano Cha Inkyong, un soprano, Unkyung Kim, un altro soprano, e il tenore Inkyo Lu Guk, che sono diretti e accompagnati dal maestro Massimiliano Caporale. Tutto ciò avverrà nell'abbazia di San Clemente, uno scenario magnifico, un'abbazia che non è stata per fortuna toccata dal terremoto, e ci sono delle bellezze sicuramente da, per chi non la conoscesse, delle bellezze da vedere, quindi un'occasione da non perdere. In cosa consisterà questa serata? Cosa vedranno, diciamo, gli appassionati di musica lirica? Allora, questi tre grandi interpreti si esibiranno mettendo in risalto la tradizione lirica italiana. Qui sono tutti invitati a Abbazieri San Clemente il 18 luglio, martedì, da ricordare che l'evento è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Notaresco, alla Valle delle Abbazie e in collaborazione con l'associazione Abruzzeria, quindi un team di diversi soggetti che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento.